San Cataldo, giorni di grande festa, quelli che precedono e culminano con il 15 novembre nella celebrazione di Sant'Alberto Magno. Tre e due iniziato ieri con l'adorazione notturna, oggi ci sarà l'approfondimento culturale con la professoressa Fiorella Falci, poi domenica la messa con il vescovo Mario Russotto alle 11 e il pranzo con i poveri della giornata mondiale a loro dedicata. La sera l'incontro con il vicario generale Monsignor Onofrio Castelli alle 18 e poi un momento di musica e festa nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth. Sant'Alberto era un filosofo, uno che fa traghettare il primo millennio, il secondo millennio andando controcorrente. Mi piace questo perché è il primo anno che io festeggio in questa nuova parrocchia che mi è stata data dal vescovo, affidata, perlomeno affidata, anche se io sono natio di là. Un filosofo particolare perché lui recupera i greci, Aristotele, che prima non si potevano studiare, quindi è una novità. La professoressa Falci ci dirà tanto, vogliamo ricominciare, vogliamo dare speranza, è una comunità parrocchiale che è la parrocchia, la casa in mezzo alle case, vuole dare quella forza, quel coraggio per ritornare a una vita più serena. Sant'Alberto fu vescovo, scrittore e filosofo tedesco appartenente all'Ordine Domenicano, maestro di Tommaso d'Aquino. La Chiesa Cattolica lo venera come protettore degli scienziati, lui dedicò tutta la sua vita allo studio, alla conoscenza e alla fede. Fu beatificato nel 1622 da Papa Gregorio XV per poi essere dichiarato santo e dottore della Chiesa nel 1931. Dieci anni dopo, Papa Pio XII lo definì patrono dei cultori delle scienze naturali. Il suo culto è molto diffuso in Italia, Germania e Francia.